Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi siamo tornati in una profile di Magic Che si sul canale non è la fonte principale dei video Trattiamo di più Yugi Però comunque Magic è sempre al centro di un progetto diciamo importante Se ci seguite su Instagram vedrete tutto quello che riguarda Magic Il nostro progetto delle basi e tutto quanto Ovviamente tutti i link li lascio nella descrizione Oggi portiamo una profile It's at Mage Che non è assolutamente una profile competitiva Però comunque è un mazzo che è molto carino Ci ho giocato spesso Fa delle belle cose È un mazzo che può essere sia un ottimo mix tra un Control e un Agro Oppure potete con qualche miglioria Con qualche cambiamento più che altro Potete farlo o esclusivamente Control oppure esclusivamente Agro Questa che vi porta è una lista Modern Ma potete anche cambiando qualche carta portarla al formato Pioneer Quindi diciamo che è un mazzo che può essere utilizzato in molti formati Iniziamo dal Piramante Viacino La creatura 2-1 a costo 2 Quando entra nel campo di battaglia non figgi due danni a un giocatore o a un Pannese Walker Diciamo che sono due danni gratis A me è una carta che piace tantissimo Praticamente lo giochiamo e figgiamo due danni O a un giocatore o a un Pannese Walker Non ci servirà più dopo questo effetto La utilizziamo tra virgolette come vittima sacrificale Giochiamo il 4 per del Stormcaster Mage Una carta veramente fortissima Volare rapidità e protezza Quindi quando viene attivata una magia non creatura Lui prende più 1-1 fino alla fine del turno È una 1-3 a costo 2 È uno dei boss del nostro mazzo Veramente a volte riesce a pomparsi in una maniera incredibile E a risolverci la partita Uno dei nostri boss ovviamente Adelis Il vento di braccio Volare rapidità Con ogni qualvolta viene attivata una magia istantana O stregoneria Tutti i maghi guadagnano più 1-1 Capirete quindi che con lui e lo Stormcaster Viene fuori una bella sinergia Tutto ciò rende i nostri maghi In grado di attaccare subito grazie a rapidità E in più di infliggere il maggior danno possibile Giochiamo due per di Izzet e Staticaster Diciamo che È una carta molto buona In due per la trovo Ottima Non in più perché Più copie e stona A flash Rapidità a costo 3 E tappandola infligge un danno a una creatura E a tutte le creature con lo stesso nome Diciamo che già due averne in campo E fanno un buon danno E fanno un buon danno Soprattutto per mazzi aggro Che magari giocano creatore piccoline E l'ho trovata un'ottima soluzione questa Giochiamo anche una rumea Ovviamente flash Quando entra in campo copiamo un istantaneo o una streconeria E in più tutti gli altri maghi Guadagnano più uno A costo 4 1 del 3 È fondamentale in questo mazzo Per potenziare sempre di più i nostri maghi È veramente un'ottima carta Giochiamo anche il 2x di casmina Praticamente le magie che i nostri abbezzali lanciano Contro le nostre creature Costano 2 in più per essere lanciate Ovviamente carte che bersagliano E togliendo due segnalini Possiamo creare una pedina mago 2-2 E poi pescare una carta e scartare una carta Ti fa fare un ottimo plus sia in mano che in campo Magari ci va anche scartare quelle carte che non servono Noi l'ho trovata un'ottima soluzione Non giochiamo la creatura Lo storm kit che mi pare Quello a costo 2-2-2 con volere rapidità Perché ho preferito fare un mazzo abbastanza bilanciato Che non sia troppo aggressivo Perché poi finisce subito le risorse Ho preferito questa versione Se volete un mazzo puramente aggro Inserite 4 di quelli lì Passiamo agli istantanei e alle streconerie Giochiamo ovviamente opt essenziale In ogni mazzo che è leggerissimamente blu si gioca opt Per me si gioca opt Ripalsa dello stregone Ovviamente fondamentale A costo 3 ma qualora avessimo un mago Il suo costo si riduce di un mano in colore Possiamo giocandola neutralizzare una magia bersaglio E un altro counter ovviamente è lo spell pierce Che neutralizza una magia non creatura A meno che il suo controllore Non paghi 2 Poi subito con carte un po' più pesantine Giochiamo il 3 per di fulmine Non gioco in 4 per per motivi di spazio Perché comunque abbiamo tante carte che infliggono danni Ho preferito lasciare 4 per di altre carte che vedremo dopo Comunque infligge a costo 1 Infligge 3 danni a una creatura O a un giocatore bersaglio Giochiamo 3 per di shock A costo 1 Infligge 2 danni A un qualsiasi bersaglio Anche questo non ha 4 per motivi di spazio E' un'ottima carta Questo mazzo probabilmente lo porteremo anche puramente agro Perché ha delle soluzioni molto interessanti Lo metteremo ovviamente sulla nostra pagina Instagram E niente 3 per di shock Il nostro istantaneo diciamo più forte Fulgore dello stregone A costo 3 Ma se controlliamo sempre un mago La magia costa 2 in meno Infligge 3 danni a un qualsiasi bersaglio Quindi a costo 1 Noi possiamo fare 3 danni Sia una creatura o una giocatura o un planet walker E infine per concludere le magie Giochiamo una voce torturante Una perché mi serviva una carta E ho voluto inserire questa qui Proprio per riuscire a Cercare di Avere una carta che comunque ci Sblocchi un po' la mano Togliendoci carte che non ci servono Ci può comunque pescare 2 a costo 2 E' veramente un'ottima carta Passiamo alle terre con L'Unclamed Che quando entra nel campo di battaglia Scegliamo un tipo di creatura E questa carta ci permette di Aggiungere un male di qualsiasi colore Alla nostra riserva Per lanciare Soltanto le creature ovviamente Di quel tipo E' veramente ottimo Perché noi possiamo Possiamo Aggiungere un mana blu o un mana rosso Semplicemente dicendo mago in più Comunque Ci da un mana in colore Che è sempre un'ottima cosa Giochiamo ovviamente I quattro cancelli Della gilda hit set Entrano da padri Ma comunque è un'ottima soluzione Budget Per avere dei mana multicolore Idem Le nostre cascate Soltanto che queste Quando entrano in campo di battaglia Ci Ci fanno guadagnare un punto vita 2x Una shima rift Che ci permette Di aggiungere un mana in colore Oppure Un mana rosso o blu Se ci infliggiamo un danno E il nostro tempio Che quando entra in campo di battaglia Entra da paddo Anche lui Però ci permette comunque Di fare scry E di aggiungere un mana blu o rosso E finiamo Il nostro mazzo Con 5 montagne E 6 isole Giochiamo più isole Perché le carte Le carte blu La maggior parte Di quelle che abbiamo nel mazzo Necessitano di 2 mana blu Quindi Diciamo che Ho preferito mettere Più mana blu Così Abbiamo più possibilità Di giocare le carte E Stiamo più tranquilli Insomma Diciamo Allora Il video di oggi Finisce qui Io sono molto contento Di aver portato Un altro profile di magic Che veramente Scarseggiano Perché Vi ripeto Abbiamo molti progetti Sicuramente Usciranno altri profile Inerenti a questo EZ mage Sia control Che Versione aggro Ma ovviamente Usciranno tanti Tanti altri mazzi Ma ovviamente La maggior parte Sanno for fun Perché Ci sono Magica Delle risorse Veramente limitate Per fare Dei mazzi a te Ma Veramente bellissimi Quindi a noi Ci permette più Fare quelli lì Perché è una cosa Abbastanza particolare E niente ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video E grazie a tutti E grazie a tutti E grazie a tutti